Questo è il messaggio che ho postato su Facebook, di pregare proprio perché queste situazioni possono essere evitate, perché si possa rientrare in uno stile di civiltà e di dialogo. E la risposta del popolo della rete è stata pronta e tempestiva, non solo nel raccogliere l'invito cristiano del parroco di Aquilinia, ma è scattata una vera e propria gara di solidarietà. Dalla campagna Io sto con il sacerdote, Io sto con il parroco di Aquilinia, che sta spopolando sul web, al gesto concreto di molti amici e fedeli che hanno portato in chiesa coperta, asciugamani e beni di prima necessità destinati ai profughi che a giorni verranno ospitati nel vicino ex asilo delle suore canossiane. Proprio questa forma di accoglienza ai migranti aveva fatto scattare come gesto di intimidazione il danneggiamento dell'auto del sacerdote. Il sindaco di Muggia, Laura Marzi, ha pure invitato i consiglieri comunali della cittadina riverasca a fare una colletta per riparare la vettura di Don Paolo. Anche se il prete, conosciutissimo anche a Trieste per i suoi trascorsi in diverse parrocchie, ha messo subito le mani avanti, spiegando come la sua priorità non sia certo l'auto, ma la convivenza pacifica e il rispetto di tutti per chi soffre. Nelle decine e decine di commenti sui social, lo sdegno verso quella vile azione nei confronti di Don Paolo e la sottolineatura di come i cattolici siano i primi a dover scendere in campo in difesa delle genti in difficoltà, indipendentemente dalla parte del mondo da cui provengono.